Ciao a tutti ragazzi, sono Kendal e benvenuti in questo nuovissimo video di... La riconoscete? Della Candy Craft, ovviamente E quest'oggi ragazzi mi sono svegliato con un'aria di cambiamenti Stavo proprio pensando, cavolo il mio mondo è molto vecchio e per quale motivo questo Enderman... Ehi, non andare a disturbare Pinotto, lascia... Dove pensi di essere? Guarda che ho scoperto un nuovo trucchetto Se ti guardo dritto negli occhi, tu non mi attacchi neanche... Dov'è? Dov'è andato? E' sparito, fifone Fifone di un fifone, è andato via, non ce l'ha con me Meglio così, meglio per lui in realtà Dicevo appunto, questo mondo è molto molto vecchio Ormai praticamente credo che sta... Ancora? Sto parlando con i miei fan Ma guardate ragazzi, vi svelo un trucco che ve l'ho già fatto vedere in un altro video Se lo guardi dritto negli occhi, lui non si muove Che stupido E ora? Cosa facciamo eh? Siamo qua e giochiamo a carte? Posso parlare con i miei iscritti? Prendi questo! E' questo! Ora si gira ragazzi Guardate, ora mi arriva alle spalle No? Ok, se n'è andato Quindi, ricapitolando Il mio mondo è molto vecchio C'ha praticamente ormai più di quattro anni Forse addirittura anche cinque E ovviamente quattro anni fa non sapevo costruire molto bene Sono riuscito a creare delle costruzioni molto belle Come per esempio la torre dei quattro regni Che non so come sinceramente Ma è ritornato? Cioè ma cosa è? Se ne va e ritorna? E' ancora qua? Senti allora Adesso mi hai stancato Dov'è? E' qua, lo sento E' qua nelle vicinanze Eccolo Come ti permetti a rubare dalla mia Candy Craft? Muori! Eh, prima mi infastidisce e poi ruba addirittura a casa mia Quindi alcune costruzioni sono molto molto belle Altre un po' meno Ed è per questo che questo video si intitola Ho distrutto il mio mondo di Minecraft Perché quest'oggi distruggeremo le costruzioni che mi piacciono di meno Non vi preoccupate Non distruggo quelle iconiche super belle Come per esempio la torre o il drago o la casa Distruggo magari quelle che proprio effettivamente fanno schifo E vorrei che voi mi consigliaste Qua sotto nei commenti Cosa fare al posto di quelle costruzioni Quindi prendiamo l'elitra e andiamo a dare un'occhiata in giro Perché ovviamente devo decidere cosa distruggere e cosa tenere Quindi, quindi, quindi Allora Il sacro ilmetto in ferro ovviamente non può essere distrutto Oh, ecco Una cosa che devo assolutamente togliere Tutto questo bambù A me ragazzi il bambù non piace più di tanto E soprattutto è super fastidioso tenerlo qua Cresce troppo Fa laggare E non mi piace E' antiestetico Non so per quale motivo l'ho piantato qua Anzi in realtà credo di sapere il perché Probabilmente perché non l'avevo mai trovato Quindi se non sbaglio il bambù è uscito tipo nella 1.14 O forse prima Non mi ricordo Comunque l'ho cercato io praticamente per tanto tempo E poi quando l'ho trovato finalmente ho detto Ok adesso riempio il mio mondo di bambù Perché finalmente l'ho trovato Ecco E' stata una decisione veramente pessima E avrei anche potuto evitare Quindi ne ho messo troppo Mi dispiace Steph Sto distruggendo il tuo blocco preferito Il tuo oggetto preferito Ma questo bambù non sa da fare Quindi togliamolo immediatamente Perché tutto questo spazio lo possiamo sfruttare Per fare qualcos'altro Infatti tutte le costruzioni che quest'oggi cancellerò Definitivamente dalla mia Candy Craft Mi regaleranno uno spazio in più Per fare qualche altra costruzione Leggermente migliore Leggermente più bella Visto che adesso so più o meno costruire Non sono bravo ovviamente Però ora me la cavicchio So fare qualcosa ogni tanto Me lo dite sempre voi nei commenti Io dico che faccio schifo Ma voi mi dite non è vero Kendall sei diventato bravo E quindi mi fido di voi Ok dobbiamo toglierlo tutto quanto alla radice Altrimenti poi ovviamente ricresce Devo dire è abbastanza soddisfacente Eliminare tutto questo bambù in questo modo Ecco però il mondo ci metterà veramente tantissimo tempo A eliminare tutti questi drop E io credo di avere l'inventario pieno Vero? Sì Altro che farm di bambù ragazzi Facciamo che me ne tengo Ecco questi dovrebbero bastare Per tutta la vita probabilmente Quindi andiamo in magazzino E posiamoli Molto meglio adesso senza il bambù Oh cavolo Mettiamolo qua Nei fiorellini Ok riempiamo tutto di bambù Così se ci dovessero servire in futuro Ce li abbiamo Poi Un'altra costruzione Che non mi piace Allora Questa tra l'altro è una costruzione Abbastanza recente L'ho fatta da poco Ma non sono assolutamente convinto E soddisfatto Anzi credo faccia schifo Credo sia la costruzione peggiore Della mia Candy Craft Ovvero La nuova stalla Niente ragazzi Non ci posso fare nulla Non mi piace Già quando l'ho fatta Non ero convinto E' tutta storta Il tetto è storto Non lo so Mi fa veramente schifo E quindi Adesso la buttiamo giù E tutto questo spazio Lo dovremmo utilizzare Per fare qualcos'altro Quindi vi prego Commentate nei commenti Commentate nei commenti Scrivete un commento E ditemi Cosa dovrei fare Secondo voi In questo spazio Che resterà E ora quanto tempo Ci vorrà Distruggere tutto Presumo un bel po' Tra l'altro Tutti questi animali Ora resteranno senza una casa Mi dispiace Mi dispiace Ma non ci posso fare nulla Questa costruzione E' opropriosa Non mi piace Sicuramente Potrò fare di meglio In futuro Ma secondo voi Sarebbe meglio Far esplodere tutto Quanto con una TNT Ho un po' troppo paura Sinceramente Di provare Far esplodere con la TNT Metti che tipo Rimbalza E mi distrugge la casa Però sarebbe sicuramente Il modo più veloce Per distruggere tutto Ok ci provo Lo so E' rischioso ragazzi Ma ci dobbiamo provare Allora Direi di mettere una TNT qua Giusto Per essere sicuri Che così Non mi distruggerà la casa Tu cosa pensi di fare? Beh devo dire Ha fatto una bella esplosione No 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 Il creeper no Ok che voglio distruggere tutto Ma Il creeper poi fa Dei casini extra Scappa I veri fighi Non si girano mai Dopo le esplosioni E tu chi sei? Oddio E dove l'hai trovata Quell'armatura? Dammela subito Dammi Subito L'armatura Molto Molto meglio Beh e ovviamente Poi faremo una stalla migliore O almeno spero Poi vediamo Allora Il castello No ragazzi Cioè mica voglio cancellare il castello Ma che siete matti Sapete quanto tempo ci ho messo Però Sicuramente potrei migliorarlo Aggiungendo degli alberi Tutti attorno Quindi Sarebbe bello Renderlo un pochettino più tenebroso E migliorare l'atmosfera Aggiungendo degli alberi Infatti ho preparato Dei sapling di spruce Quindi i sapling di Della taiga Praticamente E cerchiamo di piantarli Tutti attorno Intanto facciamo che andiamo a dormire Che è molto meglio E direi che Piantare tutti gli alberi Attorno Al castello Potrebbe migliorare L'atmosfera Potrei renderlo un pochettino Più tenebroso Quindi facciamo che li metto Tipo un po' così A caso E vediamo come Come viene fuori Se poi dovesse fa schifo Pazienza Quando saranno cresciuti Li butterò tutti giù Così almeno C'ho della legna in più Ok Così Cerchiamo anche di esagerare Facciamo una bella foresta fitta Qua non mi piace Che le fondamenta siano così Ma pazienza ragazzi Ok Dobbiamo riempire Tutto quanto di alberi Ovviamente ci vorrà un bel po' Prima che Che crescano Perché non posso di certo Utilizzare il bombille Altrimenti ce ne metterei Ci metterei veramente Tantissimo tempo E soprattutto Sprecherei troppe risorse Una bella foresta Tutta quanta Attorno al castello Oh alcuni sono già cresciuti Cosa? Come è possibile? Poi per renderlo ancora più creepy Potrei creare una specie di sentiero Con delle lanterne Il sentiero fatto con Con la pala Quindi tipo così In questo modo Tutto attorno Eh ci sta Anche perché comunque All'interno del castello Ci sono le prigioni Ci sono i miei Schiavi Collaboratori Ma ci sono anche le prigioni Qua sotto Quindi sarebbe giusto Appunto renderlo un pochettino Più creepy Tenebroso e spaventoso Vediamo C'è qualche altra costruzione Che voglio assolutamente rimuovere? Mmm Beh qua direi di no Ok Devo dire la verità La scuola non mi è mai piaciuta Più di tanto Perché Cioè non la scuola Nel senso La scuola qua nella mia Candy Craft Non mi è mai piaciuta Perché secondo me È totalmente fuori tema Rispetto a come è la Candy Craft Quindi non c'entra assolutamente nulla E prima o poi credo che la eliminerò Però non è questo il giorno Il castello Cioè volevo dire Il cimitero mi piace veramente tantissimo I guardiani Per quanto sono inutili Sono comunque molto belli L'isola delle Bedwars Mi piace Ok togliamo quel coso là Assolutamente La piramide Non so se ve l'ho fatta vedere Ma l'ho migliorata Di recente Ho aggiunto praticamente Degli scalini extra Per renderla un pochettino Più grande Un po' più 3D tipo Visto? Prima era fatta soltanto da blocchi Quindi blocchi a salire E adesso invece Ci ho messo tutti gli scalini attorno Ok togliamo anche questo Assolutamente Per toglierlo Ho bisogno di tanta sabbia Prendiamo tanta sabbia Questo se non sbaglio È stato bella faccia farlo vero? Conoscendolo Mi sembra proprio opera sua Sinceramente Non mi ricordo È passato troppo tempo ragazzi Se voi ve lo ricordate Fatemelo sapere nei commenti Ok E riempiamolo tutto Quanto di sabbia E anche questo è stato fatto Poi vediamo C'è qualche altra costruzione Che non mi piace Le case mi piacciono tutte E poi sono dei miei amici Il ponte mi piace tantissimo Oh No Si sono rotte? Porca miseria E si possono riparare adesso da rotte? È la prima volta che mi si rompono le litre Mi sa Sapete? Ok No Se devo dire la verità Credo che tutte le altre costruzioni Mi piacciono Un bel po' Soprattutto quelle nuove Anzi No 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 C'è un'altra costruzione Che non mi piace Che secondo me Andrebbe totalmente rimossa Il porto Fatemi sapere cosa ne pensate voi Secondo voi dovrei rimuovere Anche questa costruzione E quindi fare spazio Per farne un'altra nuova Oppure La lascio Perché non fa così tanto schifo Secondo me non è sto granché C'è la parte del legno Ci può anche stare Però la parte della cobblestone Proprio no Qua abbiamo anche il condotto Ok Beh Per adesso sono soddisfatto Fatemi sapere voi cosa ne pensate Ovviamente So che ci sarà comunque qualcuno Che mi dirà No perché le hai tolte Facevano parte della candy craft Sì ok ragazzi Però la candy craft Va anche modernizzata Va modificata Non posso lasciare le costruzioni Di 4 anni fa Quelle che facevano schifo E tutto il resto poi è bello Quindi cerchiamo Di migliorarla Insieme Lasciatemi dei commenti qua sotto E dei consigli Su cosa costruire In tutte le parti Che ho praticamente svuotato Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao